Ciao a tutti e bentrovati, oggi vi mostro come ho realizzato un paio di orecchini a sutash con la filigrana poi andremo appunto a realizzarli insieme a grandi fasce questi qua sono gli orecchini in questione sono un paio di orecchini appunto realizzati con la tecnica del sutash nella parte superiore nella parte inferiore è già stata appunto aggiunta un dischetto in filigrana questo è il retro della lavorazione e niente vi illustro i materiali appunto necessari per realizzare questi orecchini e poi appunto procediamo con la lavorazione allora avremo bisogno innanzitutto di un filo di nylon sottile in questo caso è un filo da 0,14 mm d'accordo un ago avremo bisogno di due colori di piattina io solitamente tendo ad operare la piattina più sottile perché mi piace di più il lavoro che ne esce cioè meno pesante meno grosso appunto la lavorazione è una piattina questa da 2,5 mm di solito la chiamano la piattina appunto lo so come mai usa vi voglio far vedere anche alcuni altri lavori sempre appunto fatti con questa piattina come potete vedere è molto sottile perché è da 2,5 anziché 3 mm ed è anche leggermente più meno spessa ecco per fare ad esempio lo spessore che occuperebbero tra piattine di quelle normali da 3 mm ne uso 4 grosso modo vi faccio vedere alcuni lavori per farvi vedere appunto il risultato e niente come allora torno a ribadire servono due colori di questa piattina un po' più sottile delle altre o se voi vi trovate bene ovviamente con quella da 3 mm usate quella da 3 mm che tenete presente che ovviamente la lavorazione diventerà più grande e niente i due colori io ho scelto un grigio chiaro e un grigio scuro poi avremo bisogno di una pietra con i fori passanti oppure anche un mezzo cristo un caboson come volete voi il mio ha una dimensione ovviamente con il caboson avrete bisogno di un'altra montatura di incollarlo da qualche parte e allora dunque il mio misura 18 mm per 13 18x13 una non so neanche come definirla forse un'olivetta ovviamente voi potete usare le pietre che avete in casa ovviamente tenete presente che cambia le dimensioni dell'orecchino poi un'olivetta da 16 mm per questi saranno 5 6 5 mm avremo bisogno di cipollotti da 3x4 scusatemi da 6x4 mm 6x4 6x4 4 mm e cipollotti 3x4 un descritto in filigrana il mio misura 3 cm 3 cm e mezzo questa misura d'accordo dei pernini appunto per attaccarsi la lavorazione e degli anellini se dovessero servirvi per tenerlo al primo dritto d'accordo detto questo iniziamo allora per prima cosa andremo ad infilare il nostro filo nell'ago con la mia forbicina ecco qua faremo un nodo appunto nella parte finale e mettiamo il nostro filo da parte andiamo nel frattempo a ritagliare le nostre piattine allora queste saranno lunghe grosso modo sui 25 cm se vi sentite potete farle anche leggermente più corte però se vi sentite insicura io opterai per tenerle leggermente più lunghette che male che vada se butta via l'eccesso anche perché l'eccesso sarà tanto così non proprio tantissimo per cui io le terrei proprio più lunghe onde evitare inconvenienti per cui ne prenderemo nel mio caso tre di un grigio più chiaro e uno di un grigio più scuro fatto queste andrò a sovrapporle una all'altra tenendo presente che le piattine hanno un verso e un dritto e un rovescio per cui metterò le tre piattine allora di colore più chiaro ecco qua e infine sopra infilerò appunto le piattine la piattina con il colore più scuro fatto questo andrò a dividere la mia piattina a metà appunto per calcolarmi la lunghezza prenderò il nostro la nostra sfera il nostro cabosio e andrò a vedere grosso modo quanto spazio mi occupa per sapere dove appunto iniziare con il mio ago in modo da avere i due lati delle frangette delle sottasce simmetrici mi dice di iniziare grosso modo qui così ed è quello che io farò con il mio ago con il nodo in fondo e il filo allora il filo trasparente vado a iniziare la lavorazione puntando l'ago praticamente nella scanalatura che vi è sempre tra una piattina e l'altra tiro il filo in questo modo e inizio appunto a cucire facendo punti molto ravvicinati sulla parte che andrà all'esterno della mia lavorazione mentre mi posso azzardare a tenere punti un po' più distanti nel lato che andrà appoggiare appunto la pietra quello che incorniccerà la nostra la nostra piattina mi raccomando considerare bene di non prendere dentro le frange con il filo come in questo case no ci siamo adesso ok niente adesso ci armiamo di pazienza e continuiamo appunto a cucire insieme tutte le nostre piattine adesso metto a costi braccialetti perché tutto un tutto non penso che sia proprio gradevole la compagnia dei miei braccialetti che ho spinto a me piace però so che per dire mio marito non la sopporta e allora mi tolgo perché magari anche a voi non fa piacere sentire un continuo scampania ogni tanto per darci la forma prenderemo in mano la nostra parte centrale nel nostro cabosho andremo a dargli una sistemata in modo da vedere dove dobbiamo appunto curvare con il filo e via dicendo con un po' di pazienza continuiamo appunto a cucire tenendo sempre le piattine con le due dita in modo da da pareggiarle cerco di dare alla mia cucitura il verso della perla cioè dove ci sono le curve cerco appunto di riprodurre le curve ecco qua la togliamoli così diamo un'altra occhiata dunque la mia lavorazione inizia da qui per cui siamo grosso modo qui come potete vedere adesso con mi proseguo andoro leggermente a curvare seguendo appunto il verso di quella che è la mia perlina per cui ora prendo il filo i fili e inizio appunto a curvare la lavorazione in modo da creare appunto l'apice la volta procedo in questo modo sempre continuando a dare un occhio a quella che è la forma della perla sovrapponendoci il mio le mie piattine a cucire tutto il perimetro appunto della parte centrale della nostra lavorazione ecco qua sono arrivata adesso a questo punto cioè praticamente mi trovo ad aver cucciato ad essere partita a cucire da qui aver fatto il giro dando appunto la forma leggermente più acuta alle mie piattine e ora mi trovo ad essere arrivata appunto a circondare l'intero a l'orsta cazzo di lampada a circondare scusate l'intero perimetro cosa faccio adesso mi trovo appunto in questa situazione e mi porto con l'ago nella parte interna in questo modo prendo la mia perla e vado a bloccarla in questo modo esco la blocco al culmine di quello che è stato l'archetto ovviamente qua si è incastrato il figlio ok tiro ora che mi trovo qui in questa situazione che cosa faccio rientro appunto nella mia perla puntando l'ago appena appena scostato rispetto a dove sono uscita tiro il filo mi trovo in questa situazione per cui ora non dovrò far altro che ancorarmi sistemando bene la pietra essendo così piatta si fa un po' fatica ed entrerò dall'altro lato in questo modo per fessare la pietra a questo punto appoggio la mia lavorazione al piano di lavoro congiungo quelle che sono le due code della piattina delle piattine in questo modo d'accordo e con l'ago entro da un lato prendo dentro nel mio caso le otto piattine e le unisco assieme in questa maniera tiro ripeto questo punto per un paio di volte fino appunto a formare la mia lavorazione adesso la vedete un po' che giro quando gli metteremo la copertura dietro ovviamente la pietra non girerà più si può anche eventualmente passare dietro con il filo infilandosi in modo da fare una specie di gratticcio sul retro della lavorazione per farlo rimanere fermo come vi dicevo prima potete vedere vedete che le piattine hanno un un dritto vedete che qui è un rovescio vedete che è diverso il davanti dal retro qui risulta meno liscio risulta più ruvida la lavorazione della piattina ecco qua questo è il dritto rovescio delle piattine non in tutte c'è non in tutte quante appunto c'è un dritto è un rovescio oppure non in tutte si vede così marcatamente ecco diciamo così che forse è più corretto ok ripasso un paio di volte appunto per bloccare la mia lavorazione ora mi trovo in questa situazione ad aver appunto cucito le mie otto piattine assieme cosa devo fare adesso dovrò andare a dividerle 4 da una parte e 4 dall'altra in modo da rendere le cose speculari lavoreremo prima da un lato e poi dall'altro lato e che cosa andremo a fare andremo ora quello che dobbiamo fare è appunto incastonare il nostro cipollotto più cicciotto in questa posizione d'accordo per cui mi porto ad uscire con il filo in questo lato se questa gira non vi preoccupate perché poi si bloccherà e comincio appunto a dare al lato che voglio lavorare la forma della perlina che dovrà andare ad ospitare cioè per cui io faccio questo lavoro e cucio le mie piattine quando mi trovo grosso modo all'altezza della metà della volta vado a prendere quello che è il mio cipollotto calcolo se il filo scende grosso modo a dove io lo voglio incastonare e fatto questo carico appunto il mio cipollotto sulla sull'ago esco dalle piattine superiori mi infilo nelle piattine con l'ago del giro sottostante in questo modo e blocco appunto quella che è il mio cipollotto lo porto ad aderire bene alla parete del ghirigore interno e rientro in modo da ancorarlo in maniera perfetta tiro il filo e la prima perla è incastonata fatto questo mi porto a cucire ancora le piattine tra di loro in questo modo fino ad arrivare grosso modo con il mio ago come potete vedere qui sono scesa con la mia piattina fino ad abbracciare completamente la perla subito dopo mi sono attaccata su questa lavorazione sottostante per cui adesso che sono a questo punto magari con l'aiuto di un qualche utensile o con le mani perché adesso non volevo coprirvi ecco vedete porto le piattine ad aderire e vado a cucire in questo caso quelle che sono diventate quattro piattine superiori e le quattro inferiori cioè otto tutte insieme per cui d'accordo tiro il filo rientro cerchiamo di non tirare eccessivamente perché altrimenti la parte della lavorazione che abbiamo fatto sottostante si scosterà troppo da quello che è il perimetro della mia perla va bene che poi quando andremo appunto a lavorare anche l'altro lato risulterà più simmetrico ecco qua come potete vedere ho abbracciato interamente la mia perla con le mie piattine fatto questo ripasso un paio di volte sempre in questo in questo modo in modo come vi dicevo appunto da fermarla in maniera ottimale ecco qua si è incastrato giustamente perché se non c'è qualcosa che va storto che cazzo di video è ecco ecco diamo un altro paio di punti in modo da creare una superficie una superficie abbastanza piatta dove andremo poi ad ancorare quello che sarà l'altra perlina per cui diamo questo punto è un altro punto tornando indietro ok fatto questo andremo a prendere dalla nostra le nostre cose appunto che ci siamo preparate un cipollotto un cipollotto 3x4 mm quelli più piccolini cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a creare adesso l'ansa per ospitare questo per cui questo andrà sistemato per l'appunto lì dentro d'accordo per cui anche qui ora ci troviamo ad uscire dalle piattine superiori con il filo e andremo prendendo solamente le quattro piattine di questo giro a creare un po' l'ansa per ospitare appunto l'altro mio cipollotto quando mi trovo grosso modo come ho fatto per il cipollotto precedente in quella che dovrebbe essere la metà appunto del mio il mio Ghirigori fatto a cerchio vado a prendermi il cipollotto da 3x4 lo carico sull'ago lo porto a scorrere in fondo al filo e lo faccio entrare in quella che diventerà la sua sede in questo modo fatto questo entro in alcune piattine non serve che siano assolutamente tutte e vado a bloccare la mia lavorazione rientro in modo da portarmi nuovamente ecco qua d'accordo? bene continuo ora questa lavorazione appunto a seguire quello che è la circonferenza appunto del cipollotto a questo punto dovrò andare a girare dietro in questo modo le mie piattine cosa faccio per aiutarmi? per aiutarmi mi porterò sul retro della lavorazione in questo modo con l'ago e filo vedete che esce sul retro e con questo ago e filo andrò ad ancorare le piattine della curva che stanno sul retro a quelle sul davanti cercando ovviamente di passare tra una piattina e l'altra in modo che il filo non si veda vedete cercando di uscire appunto come vi spiegavo tra una piattina e l'altra tiro il filo e rientro sempre tra una piattina e l'altra in questo modo in modo da aiutarmi a tenere fermo appunto quello che sarà la mia lavorazione lo faccio un altro paio di volte proprio per bloccare tutte le mie le mie piattine così e rientro in modo da averle bloccate tutte mi sposto ora girando la lavorazione a lavorare sul retro questa è la situazione che si è creata che cosa faccio adesso io ricompatto le mie piattine in questo modo facendogli fare un'ansa dietro e procedo nel nel cucirle si sono incastrati tutti gli altri fili giustamente la corda procedo in questo modo fino a portarmi alla fine del ghirigoro davanti c'è praticamente grosso modo questa altezza d'accordo quando sarò a questa altezza che cosa faccio andrò a sovrapporre le code di queste piattine su il giro qua davanti che è in cornice cioè andrò a fare questo lavoro d'accordo le porterò sul davanti e andrò ad ancorare le quattro piattine superiori con allora esco in questo modo mi porto ad entrare anche ecco qua nelle piattine che circondano l'ovale centrale d'accordo tiro il filo e mi porto a lavorare in questo modo almeno almeno per 3 3 mm ad esempio ecco qua così 1 la parte davanti di quella che sarà la mia lavorazione risulta essere così aspettate che sistemiamo il centrale d'accordo che cosa faccio adesso ora mi rimane da fare questo gioco e come farò a fare questo gioco semplicemente andando a cucire le mie piattine in questo modo ecco qui ho terminato adesso la parte centrale della mia lavorazione che è questa qua questo è il retro e la metto da parte adesso andiamo ad occuparci appunto di questo qui dunque per fare questo io mi ero ritagliata dei filetti no non mi sono ritagliati è lo stesso allora ritagliamo taglieremo anche in questo caso tre pezzettini questa volta facciamo così che così almeno abbiamo un'idea grosso modo del tessuto che ci servirà io direi che quando abbiamo un pezzettino così è sufficiente cosa sarà 5-6 cm per cui 1 2 e 3 e adesso quello più scuro vado a fare il nodo al mio filetto ecco qua sistemo le mie piattine in modo da metterle tutte sul lato dritto 1 2 e 3 un accordo tutte dritte tutte pareggiate e inizio appunto cucire pocate dicembe dicembe un accordo in questo modo poi quando sono grosso modo quella che presuppongo io sia la metà le do una misurata e qua comincio appunto a girare per fare la curva cuccio fino a raggiungere tutto il perimetro ora che ho praticamente finito tutto il mio perimetro farò come ho fatto per l'ovale centrale cioè per cui mi porto all'interno della nostra soletta tiro il filo prendo il filo corto continuo a sfidarsi che palle non importa non importa loro infidiamo se ce la faccio perché non vedo un cazzarolo tanta pazienza che ci vuole con il mio compagno perché praticamente cosa è successo sta sistemando la canzone per per la gara di pattinaggio di sofia voi dovete sapere che nel pattinaggio artistico adesso non so se anche quello su rotelle però su patinaggio artistico su ghiaccio quando si va a fare una competizione ci sono delle regole da rispettare che sono ad esempio la durata per la quale proprio non si transige ora la sofia deve portare un brano che dura due minuti il brano che abbiamo scelto noi dura due minuti e 44 giustamente per cui c'è da lavorarci sopra adesso è in grado visto che il suo lavoro per accorciarlo solamente che essendo il suo lavoro dove essendo lui molto preciso in questo meno di due minuti e 0 3 non riesce a farlo voglio detto guarda che tre secondi in più valgono come penalità insomma non vuoi capire per cui ho dovuto mandargli regolamenti del patinaggio artistico su ghiaccio è che si è fatto convinto per cui ora la sta accorciando ma non viene bene con l'asero da soltuale cioè quello che viene insomma abbiamo avuto un po da discutere ecco io intanto ho finito un lavoro mi lavorazione adesso dobbiamo fare quello per la compagna del patinaggio di sofia che ha scelto noi abbiamo scelto la musica di austin power per capirsi d'accordo scusate la digressione retro vado ad ancorare praticamente giusto al centro e adesso vado a cucire questo lato dietro sul lato davanti sempre ovviamente imbroccando tra una piattina e l'altra in questa maniera mentre l'amichetta di sofia ha scelto la musica di oceania e quella è un po più lunga ed è ancora più complicato da sistemare per cui voglio vedere adesso quando dovrà passare a quella come poi un'altra ragazzina ha scelto la musica lollipop mentre l'ultima nel corso di sofia ha scelto la sirenetta così avete una carrellata magari adesso quando vi farò vi posterò magari qualche video della sofia che patina perché fa morire da ridere ma non tanto per l'esercizio in sé applicato per le facce che fa è sempre contrito tipo tutta appesa ma comunque fa un sacco ridere ecco arrivati a questo punto quando vedo che la mia lavorazione è salda cosa faccio giro e faccio un nodo ecco taglio il dietro in eccesso perché altrimenti diventa tutto cionpone gonfio come potete vedere queste piattine da due millimetri rimangono anche sul retro molto più piatta delle altre ovviamente essendo più sottili d'accordo fatto questo mi sono dimenticate prima di dirvi che serve anche il pezzo per la copertura dietro adesso questo è un pezzettino di semplicissima incantara che cosa faccio siccome cucendolo direttamente questo tende a virare perché tante volte gli spazi in cui io mi posso infilare con le aghe non corrispondono per cui che cosa ho deciso di fare io io ho deciso di fare in questo modo prima gli do una leggera incollata e dopodiché allora lo blocco proprio con l'ago il filo in modo che non ci siano problemi per cui vado a mettere al di sotto guarda un attimo come l'altro orecchino e io penso che sia questo il metodo d'accordo prendo la mia colla nel mio caso io uso una colla normalistica una colla normalissima è un bo stick che comunque rimane molto chiaro poi vado a sistemare su tutta la lavorazione che così almeno si terrà fermo anche la pietra questa qui centrale ecco cosa faccio adesso cosa faccio adesso adesso sistemo questo qui per cui vedete il mio fatalità a un forellino dove ci si andrebbe agganciati se si montasse in un'altra maniera è uno sotto per cui praticamente riesco a trovarmi l'asse lo appoggio e tengo presente dove arriva l'altro che ho già sistemato io credo che grosso modo così prendiamo nel cantare ecco in questo punto premio sulla cantare siamo ancora in grado leggermente di muoverlo ok fatto questo aspetto che la colla appunto faccia la presa volendo adesso che si è bloccato e aggiungo un altro pochino di colletta dopodiché sempre con il mio filato trasparente questa c'è un difetto che fa un po di fili non tante ma un pochino di fa ok giro lavorazione e vado dopo ad ancorarla del tutto ok ripremo e aspetto che faccia presa la colla d'accordo ecco qua ho incollato ho ritagliato e gli ho dato un paio di puntini che qui non si vede con su quel filo trasparente sui lati in modo da ancorare appunto la mia lavorazione a quella precedente cosa farò ora adesso semplicemente andrò ho perso un'altra pinza per cui usiamo il compasso da orefici non importa andrò ad ancorare il l'anellino con il perno appunto dell'orecchino per cui adesso se riesco ad operare questo come pinza visto che il convento passa queste perché altre non so dove cavolo lo fate andare per cui usiamo questa ecco qua facciamo passare una parte centrale appena appena al centro sopra sotto la prima piattina e andiamo adesso fissare il succhiolino ovviamente ho beccato quello che al forellino un po stretto degli altri e vado adesso a chiudere il mio anello pinza con le pinze di fortuna che ho io dovrei alzarmi andare a cercare le altre ma sinceramente non ne ho voglia per cui dopo lo sistemo meglio ecco questo è l'orecchino terminato di questo è il suo amico bene detto questo abbiamo terminato anche questo tutorial io vi ringrazio un'altra cosa sul retro essendo alcantara e fonda di solito tendo sempre a dare una passatina con l'accendino in modo che magari i piccoli di piccole imperfezioni che ci sono vengano appunto a ridursi d'accordo bene detto questo questi sono gli orecchini terminati se volete potrete mettere magari fissare una perlina qui è una qui in modo da nascondere proprio l'intersezione dei fili è a vostro gusto ecco io vi ringrazio vi saluto al prossimo ciao ciao